Fiducia nelle opportunità che si aprono sulla nuova via della seta, la firma del memorandum con la Cina, un'intuizione giusta. Dalla città proibita il bilancio del presidente del consiglio al termine del forum e dei tanti incontri di Pechino prima di rituffarsi nelle vicende italiane, tra tutte il caso Siri.